Il mio misericordio è il padre, fonderebbe Guizzo Churchill. Che ne ha? Ecco, bravo. Cultura in verale. E' cultura. Se si, visto il Churchill, so che comprava lì, con qualche incosti per pesizia. C'è un clove in freche all'Europa, ma c'è unaobretta con la Balearen. C'è un po' di sudfranko? C'è un po' di stato? C'è un po' di stagione ? Ma con l'ativa scemmi in Sudfranko lì, era con il 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 centro della ferie, alla playa Féren ? Non, non è mi? Qua dire generazione. C'è un po' di suggerimento. Oh, hi! Poi, puoi orto! Poi, puoi orto! Poi, puoi orto! Hai raggi, ma che ci sono. Wow! Belli! Un ufficio di Muenza! Un ufficio di Muenza, un ufficio di Muenza. Un ufficio di Muenza. Un ufficio di Muenza. Si, si, ci sono le... Ah, ci sono le stelle. Ma sono i soldi, ma sono i soldi, ma sono i soldi. Ah, i soldi. Ero. 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 La farcia è venuto da lui, e che sono 7 generazioni. Qui è arrivato da lui, dove sono i soldini. E che sono i soldi. In i anni ho detto che non c'erano alcune cose e non c'erano. E la l'alte, 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 l'alte Strasse, tutti ieri sono in un'abiettivo. La gente non voleva più vivere, perché le loro vogliono il PC, il garage e tutto. e io anche. E poi ho deciso di arrivare, a riuscire a riuscire e a riuscire a riuscire e a riuscire e a riuscire. E' stato un buon abenteuro. E' stato detto che è successo. Non ho capito, ma bisogna sempre andare a continuare, perché non bisogna in questo area non bisogna stare. Non bisogna stare. E' stato un po' grob. Non è finito, sembra che non è finito. Ma per me è finito, perché bisogna ancora finire per il ragazzo o per il ragazzo, che si fanno la farza, e poi si fanno dalla dose, e qualcuno deve finire. Per il ragazzo, e poi la farza. Non bisogna fare un prodotto, ma non bisogna fare un prodotto. Questo è importante. Durante tutto il secolo, in questo periodo. E mio terzo padre non era un uomo. Il suo figlio era un uomo. Il suo figlio era un uomo. e come ed è il suo figlio, il il dosspack di finito. Non c'è questo motivo, perché ho parlato in tedesco molto bene, ma mio padre era già con me. Mi sono arrivato e ho detto che ho finito per questa carriera. Freischaffende. E poi mi ha detto, tu... è tutta la scuola la scuola ma comunque si la scuola avevo il mio padre avevo il mio padre avevo la scuola avevo la scuola avevo la scuola avevo la scuola guarda vediamo guarda 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 ora la sole è non guarda 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 e adesso faccio questa mostra adesso faccio questa mostra qui a Berna a Berna? sì